Sì, diciamo che sono entrato dopo per cercare appunto di dare un po' di vivacità all'attacco e poi niente, è andata direi alla grande nel finale con il gol decisivo. Quanto hai sofferto dalla panchina vedendo la squadra che oggi faticava un po' più del solito a costruire? Ricarico, sei entrato e sapevi di poter fare la differenza? Sì, beh, quello penso sia l'aspetto principale, nel senso che indipendentemente se uno gioca o no deve cercare sempre di farsi trovare pronto, ecco, se lo devi fare dalla panchina appunto cerchi anche di guardare quello che è il gioco, quello che succede in campo per cercare poi quando entri di sfruttare al meglio le occasioni. Stai sentendo la pressione ma anche l'affetto dei tifosi? Il tifoso del Palermo per esempio mi è capitato di vederti per strada, la foto insieme è molto presente ora che è arrivato anche il primo gol probabilmente anche il minutaggio inizierà a crescere. Sì, sì, indipendentemente da quello, come hai detto tu, l'affetto della gente a Palermo è qualcosa di straordinario e quello che dobbiamo fare noi è cercare di continuare a renderli felici come abbiamo fatto in questo inizio il cammino è lungo però credo che con i risultati, con l'impegno, con la massima dedizione loro ci saranno sempre vicini. Chi segue tutta la settimana ha la sensazione di uno spogliatoio sereno, non ci sono le gerarchie prestabilite per cui chi sta in panchina deve solo sperare di entrare. Avete tutto il vostro spazio questa partita nella dimostrazione? Sì, assolutamente. È stata allestita una squadra con giocatori importanti che hanno fatto campionati importanti quindi sia chi gioca sia chi subentra ha le caratteristiche per far bene in un caso o nell'altro quindi ripeto, l'importante è farsi trovare pronti quando si è chiamati in caso. Quanto rammarico c'è per la prima di campionato, quella Bari, quel gol in mischia annullato al 98esimo forse un tuo tocco, forse di Brunori un fuorigioco che non c'era, sarebbe un filotto incredibile 4 su 4? Sì, però adesso sinceramente sono già passate 4 partite, è chiaro che sarebbero stati altri punti però quelli penso che poi ce li andremo a prendere nel corso del campionato se continueremo con questo atteggiamento, con questa voglia e con questo appunto predisposizione per fare i punti. Ci puoi raccontare l'azione del gol e che impressione in generale ti ha fatto l'Ascoli? L'azione del gol è nata che era un angolo finale quindi di tattiche lì diciamo ce ne sono poche bisogna cercare di andare dentro e soprattutto crederci. Questo è l'aspetto principale, la palla l'ha toccata Ceccaroni davanti a me e me la sono ritrovata lì e sono stato pronto e bravo poi a spingerla dentro e quindi sono felice per questo. L'Ascoli? L'Ascoli sicuramente venire qua a giocare è sempre molto complicato non è la prima volta che vengo qui, ogni volta è sempre dura per l'ambiente, per tutto e sicuramente farò un buon campionato. Il tuo passato che sapore ha questo gol? Sì, diciamo che ho fatto felice anche altre persone però ripeto a me oggi interessava semplicemente far gol per il Palermo per portare a casa un'altra vittoria. Grazie.